si chiede molto alla scuola perché le cose non vanno bene, ci sono scuole fatiscenti che non possono essere messe a posto perché non ci sono soldi, non ci sono fondi allora cosa succede? Succede che due scuole si aiutano tra di loro e succede nel milanese una storia di cooperazione virtuosa tra questi due istituti e di un cerchio poi che si chiude, no? Quella che lega questa scuola professionale, Galdus, e l'istituto superiore Lagrange allora, la prima, l'istituto professionale offre ai ragazzi questa preparazione di tre anni per avere una qualifica di operatore edile, ok? la seconda invece è una scuola che da tempo aspettava degli interventi di manutenzione e non poteva permettersi quindi che cosa succede? Succede che gli studenti, anzi la scuola professionale ha deciso di offrire mano d'opera gratuita in cambio di un'esperienza sul campo per i ragazzi sapete che i ragazzi se devono studiare come operatori edili devono fare teoria ma devono fare anche pratica perché non farla sulla scuola che ha bisogno, intervenire lì e allora vai con la scuola che aiuta l'altra con pennelli, vernici per titteggiare, dare un nuovo volto agli uffici sapete che il più giovane ha 16 anni, il più grande ha 19, stiamo parlando di una scuola superiore mi sembra una cosa molto molto carina, no? Dove non arriva lo Stato le scuole si aiutano l'un l'altra un esempio da prendere, come no?